C'è l'evento per l'aeronautica che è il 75 annale, quindi 75 anni di vita dell'aeronautica militare. L'anno appena trascorso, il 1923, come tutti sanno gli amanti e chi segue l'aeronautica era il centenario. Il 75 annale bisognava festeggiarlo quasi come si è festeggiato adesso il centenario, era qualcosa di un'etapa importante di questa organizzazione. E per la prima volta l'OSMA, la Stato Maggiore Aeronautica, decide di concentrare alcune manifestazioni e di farne una sola all'anno in un aeroporto ogni anno diverso. E si comincia proprio nel 75 annale e si decide di pratica di mare. Quindi alla vice comandante di regione era il generale Podrini. Vi è dato l'incarico di responsabili di tutto questo circo che bisognava mettere su. Ovviamente, anche qui, a seconda delle persone che vengono interessate, poi sta a loro quanto profondamente incidere sull'evento. Il direttore, invece, l'incarico venne assegnato al colonnello Miniscalco, ex pattuglia acrobatica. E il capo di Stato Maggiore scelse me da affiancare a Miniscalco per dare una mano. Quindi diventai il suo braccio destro. Cominciarono le riunioni a pratica di mare, già intorno a settembre-ottobre del 97. L'evento era stato pianificato per domenica 24 maggio. La domenica c'era la manifestazione ufficiale. Il 23, come era uso, veniva fatta una prova che era lo stesso identico programma della domenica per quanto riguardava melivoli da esibine, pattuglie acrobatiche e quant'altro. Facciamo questa prima riunione a pratica di mare. C'erano presenti qualcosa come una trentina di persone. Ovviamente, oltre ai vari rappresentanti AM, c'erano i rappresentanti dei trasporti, i rappresentanti di Civilavia, i responsabili di Fiumicino, perché venne individuato subito che il problema principale di pratica di mare era la vicinanza di Fiumicino. Diciamo dalla testata pista nord di pratica di mare alla testata pista sud di Fiumicino ci sono tra i 21 e i 22 chilometri. E quindi il problema del traffico aereo venne subito evidenziato come il punto interrogativo. Dice, su tutto possiamo transitare o passarci sopra, il problema è il Fiumicino. Il Fiumicino divenne uno scoglio. La prima riunione non tiriamo fuori un ragno dal buco? Ecco, tre ore, quattro ore a dissertare sui pericoli, rischi e quant'altro. E rimandammo questa riunione, fu aggiornata la riunione, non a breve tempo perché il problema era talmente grosso che venne dato ad ognuno il tempo per assorbire questo problema, pensarci su e digerirlo e presentarsi con soluzioni. Ci presentammo dopo quasi un mese e mezzo, era quasi la fine dell'anno. Di nuovo quasi tutti gli stessi attori. Io come faccio di solito, quando c'è un problema, non dormo la notte. Più si avvicina la data che bisogna risolvere il problema e meno dormo. In una di quelle notti prima della riunione mi si accese una lampadina e pensai a quelli che vengono chiamati i cilindri di sicurezza, ossia quelle aree cilindriche che vengono messe sopra gli aeroporti per sicurezza nell'aeroporto. La sicurezza normalmente si pensa a un aeroporto in zona di guerra, dove ci può essere un attacco da terra agli aeroplani che decollano o atterrano. Quindi si crea un cilindro, un cerchio sopra l'aeroporto di sicurezza dove si cerca di tenere quel territorio bonificato. Così quel cilindro. Mi metto con la carta geografica, faccio le varie cose, e studio un cilindro sopra Fiumicino, un cilindro sopra Pratica di Mare. Questi due cilindri li distanzio di quasi due miglia. Sulla carta geografica era semplice. Nel corridoio delle due miglia tra i due cilindri c'era la Cristoforo Colombo, la via che taglia parte dall'Eor e arriva a mare. E entra, taglia pure la pineta della serie residenza presidenziale. A nord di Pratica di Mare c'è tutta una zona boschiva verde, c'è questa strada, poi c'è, non mi ricordo, l'infernetto, un agglomerato di case che all'epoca non era come oggi molto popolare, dal molto di meno. E quindi era un punto che poteva evidenziarsi sia guardando a terra, sia con semplice tacano per vedere queste poche miglia di distanza dall'aeroporto. Non veniva fuori nessuna soluzione, tirò su il ditino. Dal punto di vista del peso in quella riunione ero insignificante, perché ero il vice del vice, come aeronavutica militare. Chi aveva la voce grossa era Cevilavia e il direttore di Fiumicino. Non dico niente né a Miniscalco né a Podrini, tiro su la mano e spongo, vado a una lavaggia che stava lì, quattro linee, due cerchi, io faccio un briefing ai miei piloti, voi briefingate tutti i carolani in arrivo e in partenza. E questa può essere l'attività. Di tutta la pianificazione che avevamo in programma, si evidenziano solo due momenti pericolosi. Uno era la pattuglia di 9F104, che il programma prevedeva decollo da Grazzanise, passaggio in formazione su pratica di mare, trasformazione a bastone, apertura, atterraggio con grosseto alternato. Questo poteva essere un evento pericoloso, che il 9F104, con tutte le loro caratteristiche, la gestione non è semplice. L'altro evento pericoloso, o gli altri due o tre eventi pericolosi, erano le primizie come velivoli che si esibivano. c'era un MIG-29 finlandese, ci doveva essere, poi è arrivato, e c'era un altro, era un polacco, se non vado errato. Sempre un MIG, era un MIG-21. Questi erano i momenti che, da punto di vista manifestazione aerea, non vedevamo. Gli altri erano pattuglie acrobatiche, o velivoli solisti, ma o italiani, o europei, gente che era avvezza a quelle attività, e soprattutto non avevano problemi di comunicazione. si sente un mormorio nella sala, dopodiché incominciano qualche domanda, se succede questo, io subito facciamo questo. Qualcuno esce, se è succeduto qualcosa in 104, ho detto subito, non hanno molto carburante, quindi l'aeroporto è grosseto, ci inventiamo un corridoio, mi inventai un corridoio, io immediatamente darò una prua e una quota ai velivoli, e venne fuori 300 in prua, che significava stare sempre sul mare, 190 di livello. Designai questo corridoio sulla Lomagna, i controllori di Fiumicino si guardarono un po' tra di loro, e qui intervenne il capo TLC di Pratica di Mare, il maggiore massimo Casadio, ragazzo sveglio che avevo conosciuto, e immediatamente lui sposò la cosa, e suggerì il telefono rosso tra la torre di Pratica di Mare e la torre di Fiumicino, con un telefono diretto, al minimo problema, si tira sul telefono, c'è da fan numero, c'è da fan niente, poche parole, e si dice quello che sta succedendo. E questo come una bacchetta magica, sbloccò immediatamente la riunione, la sbloccò da una parte e la bloccò me dall'altra, perché visto l'esito della riunione, sia il generale Podrini che il colonnello Miliscalco, mi dissero, lista allora da questo momento ti occupi tu della parte aerea, noi ci occuperemo delle altre parti che erano poco o niente, quindi diplomazia da una parte, programmi dall'altra in generale. questo mi costò stare in torre di controllo sia il sabato che la domenica, in pratica non dico dall'alba al tramonto, ma quasi, divenne uno degli uomini di torre, un dipendente del maggiore Casadio, e lui disse, no, tu qui sei il padrone, e mi tienero uno scanno alto dietro ai tre, quattro controllori di torre, una torre di controllo di pratica di mare, una torre di controllo tradizionale, è messa di lato alla pista, tutta vetri, davanti c'è la pista di volo, quindi massima visibilità, dietro la vetrata c'è uno spazio di un metro, un metro e mezzo, il bancone dei controllori, e io stavo dietro. Ci furono delle scenette comiche, tipo, ci venne a trovare il generale Podrini, che era un tipo alla tedesca, tutto bello, sempre in tiro, con lo sto bastone che andava dal fondo schiena alla testa, e aveva l'abitudine di mettersi vicino alla vetrata, quindi davanti ai controllori di torre e davanti a me. Stavo lì e si guardava lo scenario, aeroplani che decollavano, atterravano e quant'altro. E dal punto di vista educazionale nessuno dei controllori, tenenti o sottovigiali, dicevano niente al generale Podrini, quando mi sono accorto gli ho fatto scusi generale, o diventa trasparente si toglie dai coglioni. Lui si fece una risata e si tolse, sempre camminando in modo rigido. Come dice quel vecchio detto, come l'ho detto l'altra volta, il diavolo, le pentole e quant'altro, sabato 23 maggio comincia la manifestazione aerea, in aeroporto c'erano già qualcosa come 10.000 persone, perché sabato veniva aperto al personale militare che voleva vedere la manifestazione, così non sarebbero venuti la domenica. l'esibizione riguardava soltanto le pattuglie e i volivoli solisti, l'unica variante è il sabato, non c'erano i volivoli che andavano e venivano per trasporto personale, spettatori e quant'altro. Arrivano i 904, fanno la loro esibizione, vengono all'atterraggio, patatracche, il numero 4 ingaggia barriera. In atterraggio non si apre il paracadute, chiama la frase, era Rita, Rita, che significava tirare sulla barriera a fondo pista, così il gancio del 104 poteva ingaggiare barriera e fermarsi. Questo significava però che gli altri 5 dovevano riattaccare e non potevano atterrare. E quindi immediatamente mi attacco al telefono, pratica 5F 104 in salita 190, 300 in prua. E questi nel frattempo avevano ricevuto pure loro la stessa indicazione, questi 5 104 sorvolano la pista, accostano verso il mare, prua 1-300, 119 mila piedi di altezza diretti a Grosseto e sono arrivati tutti a Grosseto col minimo carburante. E quindi quello che avevamo immaginato il sabato si è verificato. e questo fu un bel inizio perché ci avevamo tutti visto bene e lungo. La domenica sotto questo aspetto i 904 filarono tutto l'iscio, l'esibizione fu fantastica, non ci furono grossi problemi se non conflittualità di traffico tra il velivolo da trasporto che arrivavano a pratica di mare e qualcuno che si esibiva. L'unico problema me lo diede l'elicottero del 31esimo, ci arriva a bordo il ministro della difesa, chiamò per venire all'atterraggio, siccome era in ritardo, mentre lui arrivava si stava esibendo il MIG-29 finlandese. Che facciamo? Che non facciamo? Semplice. Nessuno voleva fermare un super VIP. Allora, gli ho detto vabbè, non vi preoccupate, prendo il microfono, chiamo il nominativo radio dell'elicottero che portava il ministro della difesa e gli dico di orbitare a 6 miglia dall'aeroporto. Immediatamente ci fu la risposta del capo equipaggio che cercò di convincermi a non fermarsi. Guardate che forse non avete capito ma a bordo non abbiamo il ministro della difesa. E gli ho detto ok, io sono un MIG-29 finlandese se vogliamo fare un incontro ravvicinato rischiamo pure perché il finlandese capisce poco l'inglese. Quindi conviene che il ministro resta quei 5 minuti sull'elicottero fategli fare un giro e lo chiamiamo noi per l'atterraggio. Non ci sono state conseguenze. Nessuno ha protestato nessuno. Invece la sera altro venivano del 31esimo un 19 la sera avevano tutti fretta di andare via. L'unico che avrebbe dovuto avere fretta era sottoscritto a quelli in torre. Io erano 9 ore che stavo in torre avevo movimentato qualcosa come 220 aeroplani. Non avevo mangiato bevuto caffè e qualche pasticcino che qualcuno rientrando in torre mi portava. e questa aveva fretta di partire. Contemporaneamente mi avevano chiamato dall'organizzazione a terra che c'erano dei passeggeri che dovevano imbarcarsi su quella era urlano. Per cui c'è stata un'altra di atriba fra me e il capo che pagina del 19. Ma noi abbiamo degli slot bisogna andare via. No, tu l'unico slot te lo do io. Rimani dove stai a parcheggio e non ti muovi fianchiero un'autorizzo voce grossa e senza perdere tempo. E anche lì però mi è arrivato un tentativo di richiamo il giorno dopo dal comandante di stormo che ho passato direttamente da stronzo che sono stato in quell'occasione ho passato direttamente al generale comandante della seconda regione aerea se la sono vista allora. E' finita magnificamente bene questa avventura. Quello invece che mi hanno dato veramente mi hanno fatto rizzare i capelli fuono gli spagnoli col casa 101. Battuglia acrobatica formata da sette aeroplani ma l'idea che davano è che non sapevano quello che stessero facendo. Ossia abituati alla pattuglia acrobatica la nostra che conosce il programma è armonica è conseguenziale nelle figure quasi si intravede cosa succederà dopo. Con gli spagnoli non aveva idea di quella che sarebbe stata la figura successiva. Era tutta una rappresentazione anche molto nervosa dopo 15 minuti siamo stati tutti con i capelli ritti perché non si aveva idea di quello che facevano nonostante il giorno prima avessero fatto le prove la domenica avevano cambiato parte del programma comunque è andata bene fatta questa prova ho fatto la manifestazione l'anno dopo il 99 mi chiamano per fare la stessa cosa al rivolto lì non ne parliamo proprio non c'era nessun evento particolare finisce il 97 il 98 cioè il 75 innale ritorniamo in piena attività d'ufficio l'anima l'anima l'anima